Ed eccoci qui, stiamo registrando? Sì! Buonanotte, eroi! Questa sera è una buonanotte non proprio in pigiamino, ma comunque in tenuta comodissima, visto anche il caldo di questi giorni, e l'ospite di oggi è Walter Clinkon. Yeeey! Io sono già felice quando sento il mio nome e cognome detto bene. Perché come ti chiamano? Perché clink, 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 clink. Quindi quando sento Clinkon faccio... Ah, che bello! Cioè mi mette proprio in... mi mette in pace. A me mette in pace il tuo sorriso, Walter. Devo dirti che ho trovato, ho fatto attenzione più che altro al logo di Webinar Lunch, che è il tuo appuntamento, sai. E devo farti i miei complimenti, fare i miei complimenti alla persona che te lo ha fatto. Non so se sia stato tu a disegnarlo... No, è stata una persona, Paolo Demo. Ecco, Paolo Demo, fantastico. Perché ha saputo cogliere di te i tratti, sai, questo capello un po' arruffato che va verso l'alto, libero, no? Il sorriso, questo pizzetto che ti dona tra l'altro molto. Quindi è molto molto bello quello che stai facendo, a parte il brand che comunque ti rappresenta, sei proprio tu. Che bello! Sono stata tua ospita. Guarda, parto da... ti dico solo una cosa molto carina, proprio perché ha a che fare con quello che mi hai detto e non vorrei poi dimenticarmelo. Perché quello che tu vedi è un difetto di fabbrica ed è una cosa che adoro perché fa capire come i nostri difetti, in realtà, possono diventare i nostri più grandi pregi. Cioè, a me qui e qui non cresce la barba, ma è cresciuta. E quindi mi rimane un pizzetto che nasce perché ho questo difetto, non mi cresce. E la mia caratteristica principale quindi nasce da un difetto che è diventato invece il mio più grande pregio, la gente mi riconosce, per il pizzetto. Quindi ecco, mi piaceva condividere con voi questa cosa. Che spettacolo, Walter! Sei uno spettacolo! Sai che ho rivisto anche recentemente la prima intervista che ci siamo fatti? Mi è venuto da ridere, sai? A quel porcellino di marzapane con la moneta di cioccolato rivestita d'oro che mi hai regalato, eravamo io e un'altra tua amica. Ti ricordi quel giorno, amico? Assolutamente sì. Milano è stato bello, soprattutto perché quando eravamo in quel locale a berci un tè, quando ho visto quei maialini, mi è preso la voglia di donarli. E ho detto, ma vabbè, sono così carini con la moneta, che portino fortuna, e li ho presi. Insomma, è stata una bella cosa, anche perché poi è stata bella l'intervista, la location dell'intervista, perché eravamo dentro un parco, nella natura, con il lago dietro. Insomma, meraviglia. Spettacolo. Tra l'altro, considera che era la mia quarta intervista in tutto, perché la prima l'avevo fatta, no, non credo, la prima l'avevo fatta Paolo Borsacchiello. Tu pensa, che è il nostro comune amico, la prima persona che si è buttata e ha detto, apro la pista. Mi ha detto sì, senza esitazioni. E io posso solo ringraziare la vita di avermi fatto conoscere delle persone che vibrano a una certa frequenza, e poi ne parliamo, perché si sono create delle sinergie. Bellissime. Tra l'altro, rivedendo l'intervista che ti ho fatto, Walter, mi sono accorta di come fossi così, tutta professionale, un po' inamidata, con questo capello corto. Mi viene un po' da sorridere, sai, riguardandomi. Comunque eravamo fantastici. E tu, mi ricordo, in quell'occasione, mi hai accennato a un libro che stavi scrivendo, che è Al di là dei trucchi. Oltre i trucchi. Puoi parlarvi. Cosa è successo? Dai, allora, è successo questo. Al di là dei trucchi nasce. Ha due nascite questo libro. La prima, sono in un villaggio turistico che faccio uno spettacolo di magia. In realtà io faccio spettacoli di magia, adesso io la chiamo una magia trasformazionale, cioè fatta per ispirare le persone. Quindi non uso la magia per stupire, ma uso lo stupore per ispirare. Questa cosa mi ha fatto quindi fare lavori un po' più grandi, più importanti, davanti a tanta gente, fino a mille persone, per aziende importanti. Però c'è un villaggio turistico a Numana, con cui sono molto in amicizia. E quindi, anche se non è più il mio lavoro fare la magia comica, ci ritorno ogni anno a fare un paio di spettacoli, perché è un po' ritornare ai miei albori. Quindi, il giorno dopo il mio spettacolo, una persona mi ferma a colazione, viene e mi fa Ciao, complimenti, volevo farti complimenti per ieri, al di là dei trucchi, quello che hai detto era veramente molto bello, no? Io lo guardo e gli faccio Come? E lui, mi rimane un po' così, dicevo che al di là dei trucchi, quello che hai fatto è veramente bello, perché hai detto delle cose. E io, come, come? Lui, no, cioè, non voglio dire che il tuo spettacolo non era bello, Anizi, e che quello che hai detto, sì, sì, ma quella frase, qual era? E lui mi fa, beh, al di là dei trucchi. E io lo guardo e gli faccio, guarda, io non so dove, come, quando, perché, ma questa frase un giorno la userò nella mia vita per qualcosa. Me la sono segnata sul telefono e mi sono preso i complimenti e sono andato via. E questa è la prima parte. La seconda parte, sono a Bologna, alle presentazioni del libro di Roberto Senesi, Ogni cuore un percorso. Questo è un evento molto particolare perché Roberto Senesi, dopo 16 anni che lavorava in Sky come montatore, controllore dei programmi e quant'altro, decide di licenziarsi per dedicarsi al suo progetto di vita. Scrive un libro, viene edito da Le Due Torri, io conosco Roberto da un paio d'anni, diventiamo amici, presenta il libro a Bologna e la tragicità di questa cosa sta che lui presenta il libro la domenica e il mercoledì muore. Ed è stata una bomba che ha scartavetrato la vita delle persone perché lui è una persona molto spirituale, una persona che stava raccontando in quel libro l'esperienza della sua vita, parlando di dolore, di tutto il dolore che c'è stato nella sua vita e come ha saputo trasmutarlo e farlo diventare energia per vivere, per sentirsi vivo. Mi invita come ospite e dice una cosa che rimane nella nostra storia che è quella del Walter, voglio che tu venga perché io porto quattro ospiti, due la mattina, due il pomeriggio, io voglio che tu chiuda in bellezza questa cosa. E calcolando che appunto lui domenica era a Bologna con me, poi lui è tornato a Roma, io sono tornato a Trieste e tre giorni dopo, il precisamente 13 ottobre 2016, di notte muore in un incidente stradale, questa cosa ancora più forte, voglio chiudere in bellezza, mi disse, voglio chiudere in bellezza e io arrivo e chiudo in bellezza il suo evento. Morale, io finisco l'evento, arriva l'editore e mi fa, ma tu hai una storia pazzesca, ma tu devi fare un libro, ma tu sei incredibile, ma tu qua, ma tu là. E quando questo editore mi dice, ma tu devi scrivere un libro, io faccio. Io? Sì, sì, tu. Io faccio, Claudio, si chiama Claudio Selleri, io faccio, Claudio, io ho la terza media, ma vuoi che io mi metta a scrivere un libro, perché se non so neanche da dove partire, se nei temi avevo quattro ed era la somma del primo e del secondo quadrimestre, come vuoi che io scriva un libro? No, 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 tu devi scriverlo, tu hai tante robe da dare alle persone e poi mi fa, tu nel caso tu lo scrivi in clinconiano e noi te lo traduciamo in italiano. Insomma, da lì nasce l'idea di chiamare il libro al di là dei trucchi, come trasformare ogni difficoltà in un'opportunità. E mi sono ritrovato quindi ad aver scritto un libro, nel mentre essere anche coautore di un libro, perché proprio con la morte di Roberto, Ivan Nossa e Claudio Selleri, no, Ivan Nossa e Prabhat di Uno Editori, e decisero di... Continua, continua. Decisero di fare un libro, questo libro si chiama Storie d'ordinario risveglio, anche lì, assurdo, quando mi disse, Walter vuoi scrivere un libro con noi? E eccolo qua, cioè, io ho detto, come faccio a scrivere? Non so, mi fa, dai, non ti preoccupare, tu scrivi il tuo capitolo, quindi l'ultimo capitolo di quel libro è il mio, quindi mi hanno fatto anche chiudere, cioè, veramente un'emozione in pazienza. Quindi mi ritrovo con un libro e un capitolo, e anche lì, come raccontavi tu prima, la bellezza della relazione, della conoscenza delle persone, che mi ha portato a scrivere un libro. Cioè, non è che un giorno ti svegli, dice, io scrivo un libro. Devi avere da raccontare, devi vedere delle storie, devi conoscere delle persone, devi aver vissuto per scriverlo, non scrivere un libro per vendere domani un tuo prodotto. Ci vuole del valore, del valore dentro, intrinseco, ed è importante. Ecco, quel libro là, per me è stata... Se tu guardi, ci sono... Guarda i nomi, guarda dove c'è la stella che brilla, e dimmi qual è il nome dove c'è la stella che brilla. Cioè... Allora, 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 la stella che brilla è il capitolo 11, che dice, per avere cose che non hai mai avuto, devi fare cose che non hai mai fatto. Era un pomeriggio come tanti, ma che presto sarebbe diventato uno di quelli da ricordare. Ah, sì, eh sì. Senti, caro, ci sono due argomenti che vorrei affrontare con te, perché, poco prima di collegarci, io ho sentito nel cuore una cosa. Il mio incontro con te mi ha dato due doni, ok? Che sono due conferme. Il primo dono è questo, che quanto più le vicende personali che tu puoi vivere nel momento in cui le vivi in modo drammatico, riesci a trasmutarle, tanto più si trasformano in oro e pietre preziose per poter farne la tua mission. Come dire, se tu nella vita hai avuto determinate carenze o determinati, tra virgolette, problemi, o li hai percepiti come tali, attenzione, ok? Ecco, tu puoi fare proprio di quello del materiale, da lavorare, per poter aiutare persone che si trovano magari nella stessa situazione. E poi mi hai fatto venire in mente un'altra frase, che dice, tutte le cose cooperano al bene. Io ho letto questo versetto biblico tanti anni fa, quando ho studiato le Sacre Scritture, e mi è sempre rimasto molto impresso. Cioè, tutte le cose cooperano al bene di coloro che amano Dio, ok? E tu, mi ricordo, mi parlasti della tua mamma, che quando eri ragazzo aveva un problema legato. Lo possiamo dire? Assolutamente sì. Ok. Altrimenti cosa ci stiamo a fare qua? Amore. Allora, la tua mamma aveva un problema di alcolismo. se tu non ti fossi trovato in quella situazione, in quell'ambiente familiare, se non fossi disceso come un angelo dal cielo disceso per troppo peso in questa situazione, in questo ambiente, non avresti probabilmente incontrato la psicologa che ti ha fatto qualche domanda in più, alla quale tu hai risposto anche in modo un po' sgarbato a un certo punto. Ma insomma, non hai capito. Vuoi raccontare questo episodio, Walter? Che è bellissimo. Allora, è veramente tutto bello. Parto da, è incredibile come tutto quello che adesso dico sia incredibilmente tutto legato, sia quel primo discorso che hai fatto della trasmutazione, perché hai a che fare con l'alchimia, il trasformare il piombo in oro. E devi sapere che quando io decisi di andare a fare l'animatore turistico, questa decisione appunto non è arrivata da me e basta. È arrivata tramite una chiacchierata che io fecci con la psicologa di mia madre. Mia mamma frequentava un posto dove c'erano gli alcolisti e io facevo parte del gruppo figli e i figli andavano una volta a settimana da una psicologa per parlare. Ecco, tutto là. E uno dei miei apporti era quello di, sentivo, di dover dare ai miei colleghi, quindi figli di alcolisti, il concetto di ragazzi, è vero che è merda, perché è, è e puzza, e si sente, è tutto vero. Ma una delle cose che ho imparato sempre che, fin da bambino, è che anche se è merda, i fiori nascono della merda. Quindi è proprio da lì che viene fuori la natura. la natura arriva dalla concimazione, i frutti che noi mangiamo, la verdura, arriva tutto dalla concimazione, della merda, no? E quindi io, senza sapere il perché, non avevo nessuna nozione né spirituale né formato, niente, io sentivo che comunque alla fine io avevo all'epoca 28 anni e dicevo ai ragazzi, ragazzi, voi potete effettivamente lamentarvi di qualsiasi cosa, però noi siamo un passo avanti a tutti gli altri. Noi ci facciamo da mangiare da quando siamo piccoli, noi sappiamo gestire le situazioni, noi se ci succede qualcosa sappiamo come venirne fuori. Gli altri, i nostri amici che hanno vissuto nella bambagia, che hanno trovato tutto pronto, che la mia mamma gli ha sempre lavato e stirato e pulito, che gli hanno fatto trovare, loro appena hanno un minimo problema, sono nella merda, non sanno come venirne fuori, perché gli manca la lotta, invece noi per essere qua oggi abbiamo lottato, ci siamo fatti il culo per arrivare qua e per essere differenti dagli altri noi dobbiamo ringraziare in una maniera anche strana e assurda i nostri genitori, pur per quello che hanno combinato, però comunque siamo quello che siamo perché noi ne siamo venuti fuori, quindi inutile stare a attaccarli, lasciate perdere. la psicola da un giorno vuole parlare con me e mi fa guarda Walter vorrei parlare con te e io 28 anni grande, grosso e soprattutto colui che sa tipo Pdori il figlio di Kmer della tribù di Star ti ricordo di Aldo Giovanni e Giacomo colui che visse nel passato nel presente e anche nel congiuntivo io tronfio di sapere tutto di essere lei mi chiede Walter vorrei parlare con te avrei il piacere di farmi anche parlare con te e la mia risposta è stata ma perché cioè io non ho bisogno di una psicologa e lei ha insistito e io ho pensato tra me e me se lei è felice andiamo a far sta chiacchierata ma io non ho bisogno di una psicologa cioè sto bene vado a far sta chiacchierata lei mi parla e viene fuori quella frase là e mi chiede Walter cosa vuoi fare da grande? e io in quel Walter cosa vuoi fare da grande rimango un po' spiazzato rispondo ma ripensando agli anni quando avevo 15-18 anni volevo fare l'animatore turistico e lei mi fa bello e perché non lo fai? dato che lavoravo in supermercato con mio fratello a 28 anni la mia risposta è stata dove vuoi che vada? ho 28 anni e mi fa peccato cosa vorresti fare da grande? e faccio guarda l'animatore turistico è un bel sogno però la bottega di mio fratello non è che va tanto bene quindi abbiamo dei problemi e andare via adesso è un po' da bigliacco dove vado io? e lei mi fa ma i problemi del locale sono causati da te o da lui? e io gli faccio beh no da lui è lui che non che non gestisce bene io sono lì che lavoro e cerco di ah quindi se dovesse chiudere non è colpa tua non c'entri niente tu beh no ah ecco e cosa vorresti fare da grande? india cioè ti ho detto l'animatore turistico e perché non lo fai? ma ti ho detto c'è il locale mio papà mia mamma la famiglia il mio fratello sono 28 anni ma dove vado? è peccato e cosa vorresti fare da grande? e lo guardo un po' spazientito ma cazzo ma insomma non l'hai capito? cioè ma parlo con ma mi capisci ti ho detto animatore turistico e lì mi tira uno di quei schiaffi morali che fanno bene nella vita ti arriva sto cinque così e mi dice forse non l'hai capito tu e io lì perdo la la corazza sì non sì non so più cosa come rispondere e la prima risposta che mi viene da dare è vabbè dove vado e lei mi smonta a pezzetti come il lego dicendomi ora Walter io ho lavorato per Samarkand all'agenzia di animazione più grande di Italia mi sono trovato benissimo e in più la ragazza che fa le selezioni è di Trieste si chiama Gersenic di cognome questo è il numero se la chiami almeno parli la stessa lingua cioè mi trovo un bivio davanti alla mia vita pazzesco un paio di giorni dopo telefono faccio il colloquio vado a Milano faccio il colloquio mi dicono ok ti mandiamo a Montesilvano a fare il provino vado a fare il provino passo anche il provino e quindi decido di andare a fare animatore turistico per 350 euro al mese 2003 dove mio padre mi disse papà vado a fare animatore turistico l'espressione di mio papà papà ma cioè se state ma Walter te gravi 28 anni ma dove te va e io giuro io sentivo dentro questa roba che dovevo non so perché ma io dovevo andare dovevo andare via dovevo staccare il cordone ombelicare con i miei con mio fratello e per chiudere questo bel discorso lo chiudo con quella trasmutazione dal piombo all'oro perché motivo perché tornando a casa dal colloquio dove mi hanno mi hanno mi hanno preso chiamo e vado ad un incontro con la mia migliore amica Mecca che è una ragazza che vive al confine con l'Italia in Slovenia un paesino amici amici ci incontriamo gli racconto tutta la storia e lei mi fa Walter quello che tu mi stai raccontando io l'ho letto su un libro la tua storia l'ho letto su un libro si chiama l'alchimista di Paolo Coelio e tu sai quanti libri ho letto io fino a 28 anni quanti libri avevo letto fino a 28 anni zero libri mai letto un libro in vita mia solo ed esclusivamente la gazzetta dello sport e se proprio finiva la gazzetta tutto sport però la gazzetta la rosa è la rosa quindi capisci che quando lei mi dice sta roba a me mi prende su un vado a comprare sto libro leggo l'alchimista e lo leggo in mezza giornata me lo smangio e rivedo me in quel libro cioè colui che molla tutto e che va alla ricerca dell'oro del segreto per trasmutare il piombo nell'oro parto e nel mentre leggo tutti i libri di coelio tutti e da lì incomincio a leggere cioè oggi è una libreria infinita ma il mio primo libro è stato l'alchimista e se oggi ripenso all'alchimista cosa posso dirti in quel libro c'è scritto proprio quello io vedo tutto il mio percorso dopo anche i 28 anni a oggi tutto il piombo che ho dovuto trasformare in oro come questo periodo questo periodo del del lockdown guardalo mamma mia mi emoziona guarda leggi la frase dietro che è stupenda l'ultima proprio dietro ascolta il tuo cuore esso conosce tutte le cose mamma c'è la pelle d'oca guarda è tutto lì è tutto lì credimi è tutto là e da lì ho cominciato a leggere mi sono informato e poi a 30 anni ho conosciuto la magia e la formazione grazie a mio fratello ho cominciato a studiare dalla PNL fino ad arrivare a poco tempo fa essere un trainer di HCE cioè il mio mentore è diventato il mio collega il mio mentore Paolo Borzechello è il mio collega cioè io faccio le lezioni ma pazzesco quindi insomma la vita mi ha regalato tanto e diciamo che questa questo questa merda che io definisco appunto un il concime l'alimentazione che ci serve dice Ana Laura una cosa bellissima dice la gente non non ha più dolore e senza il dolore non puoi trasmutare e piuttosto che andare incontro a un dolore si ferma prima nella zona di comfort no? e ma se tu non vai incontro a quel dolore non riusci a trasmutare rimarai sempre piombo e il piombo è basso l'oro è alto mi piace come prima parlavi delle sacre scritture grazie al covid io ho letto la bibbia e un passaggio che mi è piaciuto un sacco era il concetto del come in cielo così in terra se tu prendi i livelli logici di Diltz la spiritualità è in alto e l'ambiente è sotto cioè è tutta la stessa lingua poi chiamalo come vuoi chiamalo Dio chiamalo Buddha chiamalo Robert Diltz chiamalo Paolo Borzacchiello chiamalo Walter Clinton con Jasmine Laurenti chiamalo Natura puoi dargli qualsiasi nominalizzazione ma il valore è quello il valore è il valore della natura il valore della la merda fa parte della natura del cuore veramente io sono in questo momento in un posto di montagna perché perché nei miei valori ho scritto natura nei comportamenti ho scritto frequenta posti dove c'è la natura e io non avrei mai immaginato la settimana di Ferragosto di essere in questo momento in Val di Fassa in mezzo alla natura perché perché io vivo a Trieste e non c'era ragione per essere qua e invece quando tu decidi volontariamente dentro di te nella tua intenzione più profonda di volere quel qualcosa come dice Coelio in un altro libro dove scrive che l'universo cospira per farti realizzare i desideri quindi quando tu attivi poi se lo vogliamo parlare di come si chiama di di scienza è il SAR il sistema di attivazione reticolare a forza di scrivere natura ti accade quindi sono cose che mi succedono e quando vedo che si realizzano dicono dico alle volte basta veramente poco basta veramente poco ecco quindi mi sento un alchimista ecco in parte mi sento un alchimista anche perché in questo momento della vita sto aiutando persone a trasmutare li sto portando grazie al concetto delle convinzioni e dei valori a fargli capire quali sono i nuovi valori e modificare le loro convinzioni limitanti impotenzianti e farle diventare persone migliori ma neanche diventare io dico sempre tu sei già la miglior versione di te e che ancora non ne sei consapevole perché come dice credo Michelangelo o Da Vinci o chi era quel bravissimo attaccante del Milan dentro il marmo c'è già la statua c'è già io devo solo togliere quello che è superfluo credo Michelangelo credo che sì anche io credo il concetto è quello noi siamo già la miglior versione non dobbiamo diventare migliori noi lo siamo già solo che ancora le volte non ce ne rendiamo conto e va tolto qualcosina va tolta pian piano quello che stai dicendo riporta al fatto scientificamente provato che il tempo è un'illusione così come lo spazio per cui quello che noi tendiamo con la nostra mente antica a considerare un percorso lineare in realtà è tutto qui cioè abbiamo dentro di noi tutto quello che serve il punto è risvegliarci a questa possibilità di scoprire il tesoro che è in noi e una volta scoperto portarlo fuori cioè identificarci in quello e non invece in una mente corrotta dal sistema dall'educazione da tutto quello che viene da fuori e che gioco forza abbiamo assorbito dobbiamo discernere quello che può andare bene ancora buttare via il resto e fare spazio al nuovo e il nuovo siamo noi cioè siamo chi siamo nati per essere per poter assolvere alla nostra funzione con la F grande il nostro scopo Walter io non ti ho interrotto voglio farti sapere solo questo stiamo arrivando ai 30 minuti siamo ai 27 quindi ormai è di andare avanti e l'ultima domanda che poi non è una domanda è proprio un hint un suggerimento un'indicazione è quella di ispirare i nostri viewer questa notte all'importanza di scoprire in questi tempi così particolari così delicati così destabilizzanti in un certo senso ecco a scoprire dei fari guida nei nostri valori a te la parola bello il faro guida è bellissimo perché è bello perché il faro guida è come se fosse la bussola io come tante altre persone potremmo dire ho il segreto per farti diventare felice e io in queste cose non ci credo nel senso che credo che ognuno fa la propria strada e quello che ha a che fare con quello che hai detto tu dei valori è proprio secondo me è porsi delle domande quindi io non vi do delle risposte perché non ho le risposte per te ho le risposte per me io ho le mie risposte però io ho le tue domande e tu datti e tu dati le tue risposte e la mia domanda è cos'è veramente importante per te e quando tu scrivi tutto cos'è importante per te capisci profondamente i tuoi valori e quando tu capisci quindi un lavoro che devi fare te non posso farlo io e quando tu hai capito quello hai creato la bussola hai creato il faro perché sai che cosa è importante per te e lotterai per quello che è importante per te e quello che non è importante lo lasci perdere e vai via e poi una volta fatto questo fai un altro lavoro che è molto profondo che è scrivi io non sono capace di e scrivi tutto quello che non sei capace e poi mettiti a farlo e vedrai che tutto quello che tu non sei capace è semplicemente una tua convinzione limitante perché ogni volta dici che non sei capace continuerai a non farlo allora il gioco è scrivi quello che non sai fare e fallo e come dico sempre ricordati che non stai prendendo per il culo me stai prendendo per il culo te meraviglia Walter anche perché poi mi riallaccio a quello che dice Paolo il nostro comune mentore il nostro cervello primitivo non riconosce le negazioni e quindi se io scrivo non sono capace di in realtà sto scrivendo sono capace di e quindi c'è anche questo lavoro bello che è in sito proprio nell'esempio che hai portato tu così mentre io scrivo quello di cui sono convinta in realtà sto dicendo a me stessa che invece sono capace di farlo se poi l'azione ovviamente segue questo esercizio che è un esercizio assai virtuoso Walter abbiamo concluso ci diamo la buonanotte l'ultima cosa che ti chiedo per un rapido saluto è innanzitutto di condividere con noi un progetto futuro se lo hai se hai in vista qualcosa di nuovo e vuoi anticiparlo e poi dare la buonanotte a modo tuo cosa diresti per addormentare i tuoi viewer in questo momento cioè quella è la frase con la quale comunicheresti loro qualcosa di rasserenante sai che ti accompagni proprio a ad addormentarti sereno e ad avere fiducia nella vita il giorno dopo allora parto da dai miei progetti ne ho due uno che è un è un progetto assurdo che ha a che fare con una chiamiamola pseudo consulenza nel senso che portare le persone tutte insieme non è facile perché dirti vieni qua a Moena io ad esempio in questi due progetti uno è la vacanza formativa le persone vengono a Moena stanno quattro giorni con me le porto in giro per le montagne gli faccio vivere l'esperienza della montagna in più gli faccio la formazione le persone vengono in vacanza e tornano a casa trasformate solo che non tutti possono fare questo perché perché alcuni hanno magari dei figli hanno la scuola hanno il lavoro ognuno ha le sue difficoltà quindi non è la cosa che possono fare tutti allora mi sono inventato mi sto creando questa cosa quindi calcola io la sto dicendo poi se qualcuno lo farà non me ne frega io lo faccio e basta sto creando hai presente il villaggio turistico che ha un programma giornaliero questo programma giornaliero vuol dire tu ogni giorno mi devi fare delle cose ecco io ogni giorno creerò un programma che tu puoi fare in qualsiasi parte d'Italia cioè alla mattina alle sei e mezza si va a camminare solo che se devi venire a Moena tu devi venire fino a qua e c'hai tutte le invece io ti dico stai a Lugano stai a Milano stai a Potenza stai dove cavolo vuoi stai a Nairobi stai a New York alle sei del mattino sei e mezza andiamo tutti a camminare tutti e il duppreto va a camminare ognuno nella sua città a mezzogiorno fai l'esercizio alle quindici diventa un programma se vuoi cambiare nella tua vita devi fare delle azioni devi stare al programma e io ti creo un programma giornaliero per un toto di tempo una settimana che è trasformazionale questa è la mia idea che ho partorito durante tutto questo progetto questo tempo del lockdown in più la vacanza formativa invece è una vacanza dove vieni qua e ti fai anche la vacanza e quindi questi sono i miei due progetti chiave quello che vorrei dire alle persone per augurargli la buonanotte è una frase che ho scritto quando ho incominciato a utilizzare la parola credici credici che significa credi in te stesso innanzitutto e proprio scrivendo questa perdonami mi è risponata dicevo questa frase se non ci credi tu chi ci deve credere credici e buonanotte buonanotte a te Walter è stato un piacere averti con me è stata una chiacchierata bellissima nel flusso abbiamo parlato di tutte le cose davvero importanti e quindi io ti ringrazio per aver partecipato per aver accettato il mio invito e ti faccio i miei migliori auguri certa che realizzerai uno alla volta o tutti insieme tutti i tuoi sogni anche quelli più pazzarelli quelli che sembrano irraggiungibili sono sicura perché hai tutto quello che serve non solo sei dotato ma hai una fiducia nella vita che risplende nei tuoi occhi è come una luce che emani e io la percepisco ma sono certa che anche i nostri viewer la vedono quindi un bacio in fronte a te Walter tanti auguri e a prestissimo intanto buonanotte ciao e ti racconto un trucco questa barba serve per fare questo buonanotte notte Walter che spettacolo ciao ciao Grazie a tutti.